Due giornate il prossimo 12 e 13 dicembre per celebrare Virgilio nella sua universalità e poliedricità e la rassegna virgiliane all'insegna di arte, cultura, profumi e sapori mediterranei presentata questa mattina in sala giunta con l'assessore alla cultura Eleonora De Maio che si terrà al Parco Densa a Posillipo. L'iniziativa è ispirata alle feste e alle dispute esistenziali dei cantori, dei filosofi e degli artisti che da tutte le parti del mondo si riversavano sulle coste di Partenope con spettacoli che riprendono canti e balli popolari e la loro evoluzione nel corso del tempo. In programma anche una vasta area denominata Cibarte dedicata all'artigianato, ai prodotti locali e al cibo di strada. Evento di punta della rassegna il dibattito sul libro di Enzo Grano e il favoloso Virgilio in programma giovedì 12 dicembre alle 18.30.